Poffa! Ciao cultura Poffa! Una cosa! Una cosa! C'è una canzone che era il tormentone sul set che ascoltavate sempre? O quella canzone che vi ricorderà? Beh ragazzi, allora ce l'ado a Raffae Ahhhh! Wow! Però questa canzone, grazie al presente Alberto Paradossi è diventata la canzone del barone Perchè devo sapere che il più presente Michele Rosiello è quel tipo di partenopeo più che aristocratico anzi è un aristocratico però andato un po' in disgrazia è un aristocratico decadente decadente esiliato a Torino e qui durante queste giornate invernali un po' tristi lui metteva queste canzoni anni 50-60 italiane che recheggiavano in tutto quel cortile di questo nostro residence e l'ho visto come un barone infatti lui è il barone di Pozzuoli il barone di Cristo è diventato Don Michele dove lui racconta di noi e del nostro set attraverso gli occhi del barone che sarei io ah che bello Netflix a Torino mi fanno sta qualche volta ripenso a Pozzuoli comune grandioso io sono passato questo è c'è un video di questa canzone mi sa che mi sono fatta un'idea ma chi era che sul set faceva più scherzi diciamo che dovevate fare attenzione lui in realtà era quello più sottovoce cioè lui era un'eminenza grigia sì, lui era più un sugolo lui non si faceva sentire invece io la scusa che avevo il personaggio un po' fuori di testa scusa per mettere la qualsiasi proprio la licenza di uccidere nel senso potevo fare qualsiasi cosa penso di essermi divertito a farli ridere lo scherzo che hai fatto alla fra della macchina che l'avevi chiamata c'erano due camper camper trucco e camper parrucco io prendo il mio telefonino metto il numero anonimo come si faceva nel 2004 chiamo la truccatrice che aveva pieno di comparse da truccare e le faccio credere che la sua macchina era stata requisita e che doveva andarla a prendere in questura inventandomi tutto e subito mi diceva ma no ma non è vero poi io inventavo e a un certo punto è andato in panico vabbè lì è stato ma stavano lavorando cioè non è che era un momento di pausa e quello è stato incredibile quello è stato veramente un momento incredibile io mi sento molto Alice Bassi a parte che il mio guardaroba è uguale al suo vorrei avere una casa come la sua eh beh chiunque ma quanto è bella quella casa devi girarci in quella casa però perché era un bunker se sembra bellissima è una bella casa non è un bel set c'era proprio il sole addosso erano solari voi le vetrate ad arco se la porti via così noi siamo di cultura pop si e volevamo farti qualche domanda innanzitutto farti i complimenti io mi sento Alice dentro io mi sono ritrovata tantissime e ti volevo chiedere Alice che musica ascolta secondo te? per me Alice ascolta le musica un po' degli anni 90 che sono poi quelle Britney Spears le Spice Girls in realtà poi vabbè Bindu ha avuto la sua visione molto più moderna sicuramente sa molto più di musica di quanto ne sappia io però il mio mondo è stato che è un po' quello di Alice è un po' quello delle colonne sonore anche dei film per cui tutte le colonne sonore delle commedie romantiche degli anni 90 da Notting Hill a Bridget Jones sono quelle che io ho sentito per Alice insomma alla sua storia infatti lei nel libro nella scena in cui lei in macchina ascolta gli ABBA si io adoro gli ABBA e Dancing Queen anche perché per me c'era proprio un significato il fatto che lei si sentisse la reginetta del ballo che finalmente devo darmi forza Paola le aveva detto che doveva essere più smart insomma sul lavoro farsi vedere e quindi lei va gasatissima e ovviamente una solita figura alta ma non ci crede in quel momento quindi ascolta Dancer qui sotto il letto nasconde le sue vecchie videocassette che sono quei film che un po' sono una coccola quando tutto va male alla fine chiede fuori il film del cuore che sono per lei le commedie romantiche appunto di Thing Hill Pretty Woman Ghost c'è quella ma più commedia Ghost però e sono quelle la sua comfort zone quando tutto va male però sai che guardando quei film bene o male la cosa invece andrà bene perché lì quando finisce finisce tutto nel migliore dei modi ne ha sicuramente una preferita e poi sono rigorosamente delle mie HS per cui quello che è per la musica il vinile noi amanti delle tante siamo un HS Alice è sicuramente cultura pop perché infatti anche noi siamo un po' nostalgici ci piacciono i vinili io ho una videocassetta incorniciata a casa che è la bella che chiamo la mia numero uno che vedete la mia numero uno era di Hulk ok e perché ha tutta una storia dietro del fatto che io da ragazzina ho visto un po' girare il film quando ero piccola e poi quando l'ho visto mi sono innamorata di quel film e lo desideravo così tanto che in realtà mi sono messa a risparmiare tantissimo finché non sono riuscita a comprare la videocassetta la mia amica il problema è che non avevo il video registratore e quindi andavo tutti i giorni a casa di una mia amica con la videocassetta sotto braccio e facevo fare la cura dodovi con la mia amica facendo vedere tutti i giorni e alla fine i miei genitori si sono impietositi per la tua amica per la mia amica soprattutto forse la mia amica ha passato la mezza ai miei genitori le comprate questo video registratore per cortesia e è arrivato per Natale il video registratore quindi la mia amica 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 ciao cultura pop grazie di tutto grazie a tutti